Noi siamo molto grati alla città metropolitana e a questa iniziativa. I comuni, come spesso accade, sono abbastanza in affanno sul finanziamento della loro rigenerazione urbana e quindi questa dotazione finanziaria che è messa a disposizione in maniera anche equilibrata, sebbene precisa, come ci è stato detto dai responsabili della città metropolitana, consentirà ai comuni, in particolare ai comuni di Pozzuoli, di assestare un programma di intervento di opere pubbliche già cospicuo, ma che con questa ulteriore dotazione riuscirà sicuramente a rendere più efficiente l'intervento sul territorio? Io sono particolarmente soddisfatto essendo anche oltre consigliere delegato in città metropolitana anche consigliere nella città di Pozzuoli e quindi particolarmente contento di questo ulteriore finanziamento, questa ulteriore opportunità che viene data alla città di Pozzuoli. Si parla di oltre 8 milioni di euro da investire in progetti e in programmi in una città che già ha una fase di sviluppo molto importante e quindi credo che questi ulteriori finanziamenti vadano a completare un percorso di realizzazioni sull'impianto, sul territorio e quindi sono molto soddisfatto dell'esito della riunione e mi auguro che i progetti che sono in campo e ne sono tanti a Pozzuoli possono essere realizzati e quindi andare ad implementare quello che già si sta facendo sul nostro territorio.